Donato Di Matteo, Assessore della Regione Abruzzo, ma soprattutto a uomo amministratore attento alle politiche della montagna. A Manopelo si sta discutendo di un passaggio importante che sarà futuro dell'attività amministrativa della Giunta regionale, soprattutto un'idea nuova di tutto la montagna, quale si è? Questa iniziativa serve a far capire a tutti che la nuova Giunta regionale ha un nuovo interesse e un'attenzione per la montagna. Sarà predisposta una legge che però non è la legge definitiva, dovrà essere una legge che coordina una serie di provvedimenti che vanno a intervenire su settori strategici dell'economia e dei fondi regionali. Parliamo dell'agricoltura, parliamo delle attività produttive, parliamo del settore dell'abitazione, parliamo delle aree protette. Tutti questi settori che fino ad oggi non hanno sviluppato un'attenzione particolare per la montagna e la montagna negli anni ha subito un arretramento rispetto alla forza più prorompente della costa. Oggi con questo nuovo interesse, con una legge coordinata che serva a ricostruire le condizioni per attingere una serie di risorse specifiche che andranno destinate quota parte alla montagna, noi invecchiamo questa condizione di impoverimento della montagna. Passeremo da un territorio, quello della nostra montagna che rappresenta il 35%, che fino ad oggi è stato soltanto protetto e ha subito un forte decremento economico, a una nuova fase, quindi a un territorio che avrà delle risorse certe, una nuova attenzione dell'istituzione regionale e nazionale, perché anche a livello nazionale c'è, con la presenza di pochi, stanno elaborando una legge importantissima su una montagna, questi nuovi provvedimenti creeranno lo sviluppo e la valorizzazione della nostra montagna. Questi 5 anni non saranno 5 anni inutili per dare un sorriso ai territori e agli abitanti della montagna, ma saranno 5 anni significativi. Enrico Borghi, Presidente del Comitato Interparlamentale per lo sviluppo della montagna, due passaggi importanti del suo intervento. Non è sufficiente una legge tu cursa la montagna, ma capire invece che lo sviluppo deve partire come sistema per entrare in procedimenti politici, secondo il processo di partire dal passo e non imposto dall'atto. Quali sono quindi le prospettive? Le prospettive sono da un lato l'esigenza del riordino istituzionale per mettere in condizione i comuni di poter lavorare sul versante della nuova programmazione europea. In questo il compito delle regioni è importante e penso che una regione come l'Abruzzo, che sul tema della montagna ha una forte sensibilità, sarà in grado di assicurare un rapido processo di riforma e di applicazione della legge del Rio, che tiene conto della peculiarità delle unioni dei comuni montani e del fatto che i sindaci vengono messi al centro del processo di riforma. Sapendo che non è più la dimensione municipale quella che in maniera singola ed autonoma è in grado di assicurare l'erogazione dei servizi, ma c'è bisogno di un ambito nel quale si costruisca una sostenibilità di carattere fiscale e un'efficienza dei servizi medesimi. Il tema delle unioni diventa un tema imprescindibile, ineludibile per poter avere questa doppia capacità di lavorare sullo sviluppo, quindi tutto il tema della green economy, dell'agricoltura di montagna, della sostenibilità, del turismo dolce, della politica ambientale dei parchi, tutti i temi su cui questa regione è diventata un punto di riferimento, e il tema della riorganizzazione dei servizi, scuola, sanità, trasporti, assistenza, su cui si ispira anche la strategia nazionale delle aree interne che abbiamo voluto, che abbiamo finanziato a livello nazionale con 180 milioni di euro e che avrà la possibilità di avere importanti risorse sul piano dei fondi europei e della programmazione dei futuri piani di sviluppo rurale. Quindi un compito importante in cui a livello nazionale abbiamo cercato di dare alcune indicazioni a alcune direttrici, sapendo che lo Stato non può avere la pretesa di mettere le braghe al mondo, cioè di volere fare leggi occhiute, puntuali, descrittive. Al contrario, deve fare leggi generali, dare delle indicazioni e poi fidarsi e affidarsi dell'autonomia, della capacità delle classi dirigenti di prendersi su di sé la responsabilità di riscrivere il proprio futuro. Qual è l'idea che il comitato interparlamentare ha di poter inserire, di poter intervenire? Cioè con una legge volete fare un processo di forma? Oppure, come ha detto lei, il metodo BACA, quello che ha permesso praticamente di poter entrare dentro i territori delle aree interne? E la seconda, noi vogliamo introdurre la peculiarità dei territori montani all'interno dei vari provvedimenti legislativi di riforma che il governo attua. Non dobbiamo fare una singola legge della montagna che rimane appesa a sventolare come una bandiera sul pennone. Dobbiamo introdurre il concetto della montagna nella local tax, per esempio, per fare in modo che il differenziale montagna riconosca nei costi, nei fabbisogni standard la peculiarità di un territorio che ha costi maggiori e minore capacità fiscale per abitanti. Dobbiamo introdurlo all'interno del collegato ambientale, all'interno del green act, insomma, all'interno di tutti i procedimenti di riforma che il Parlamento e il governo stanno facendo per ammodernare l'Italia e per fare in modo che nella nuova strumentazione normativa giuridica dell'Italia ci sia il riconoscimento e la peculiarità di questi territori.